amici sportivi di canale 50 un cordiale saluto da parte di Artu Garfanini qua dallo stadio Covetta di Samon Marco Avenza per la partita San Marco Avenza Camaiore cerca il passo va Mancini posizione regolare di Mancini entra in area Mancini 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 c'è il rimpallo Magni va sul fondo Magni mette un pallone dall'altra parte si coordina Doretti poi con l'occhio con lo sguardo l'ha guardato perché Gabrielli non ha tirato indietro il piede viene avanti Contibelli mette un pallone bellissimo e proprio di Tà Morelli Morelli e c'è il vantaggio del Camaiore esattamente al quindicesimo del primo tempo gran pallone di Contibelli attenzione Mancini 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 converge converge Mancini tiro e c'è il pallone che simila Lucchi dalla parte opposta anzi Ricci poi c'è Lucchi e c'è il miracolo di Barsottini che mette il pallone pallone ancora messo nel mucchio salta Arnaldi e c'è Barsottini Barsotti mette un pallone nel mezzo cicca tutti fuori gioco fuori gioco fuori gioco di D'Anton Giovanni che lascia alquanto perplessi guarda guadagna palla poi c'è un brutto fallo pallone che rimane a viola tenta il tiro Contibelli e c'è bel tiro da parte di Cugurnia Boccaina in profondità e c'è il calcio di rigore Varte Benedetti e c'è il gol uno a uno Barsottini palla lunga e l'arbitro finisca la fine uno a uno